Musica Sembra inarrestabile l'ondata d'Italia alla politica, dalla Sicilia alla Toscana, i presidenti delle Camere, ma è una moda destinata a durare? Non sarà un incontro come un altro, quello di domani al Quirinale, tra Giorgio Napolitano e Beppe Grillo, dopo le dure polemiche del passato e il recente riavvicinamento. Ma intanto scelgono il silenzio i due responsabili della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Messoria Martinelli, contro di noi, un'azione, in azione, una macchina del fango, non parleremo più con i giornalisti. I numeri sono da brivido, ogni settimana centinaia di negozi ed esercizi commerciali chiudono i battenti in tutta Italia. Il caso di Milano, in segne spente, Saracinesche abbassata, due passi dal Duomo. Si è aperto oggi a Salerno il processo in corte d'assise d'appello contro Danilo Restivo, condannata a 30 anni di prigione per l'assassinio di Elisa Claps. La madre di Elisa espone davanti all'imputato una foto della figlia. La sua vicenda aveva commosso il mondo, un commando di talebani in Pakistan l'aveva gravemente ferita perché sul suo blog denunciava i crimini dei gruppi islamisti. Ora è in Inghilterra ed è tornata alla vita. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, tanto se ne è parlato che alla fine qualcosa si è mosso, risparmiare, ridurre i costi della politica, questa è dunque l'aria che tira. Il governatore della Sicilia Crocetta alla fine è riuscito a far passare la legge che taglia le province. Poi ci sono i noè, i neopresidenti di Camera e Senato che si riducono lo stipendio delle 30% fino al governatore della Toscana Rossi che ha deciso di congelarsi la retribuzione per protesta. Fino al presidente del CONI, Malagò che ha deciso di dare uno stop e di tagliare tutti i privilegi di cui godono i politici durante le manifestazioni sportive, i politici quindi dovranno dire addio allo stadio gratis. Paese in crisi, si tagli chi può. Dai presidenti di Camera e Senato ai parlamentari a 5 stelle, dalle tessere gratis allo stadio alle province siciliane. Si scrive tagli, si legge segnali. Perché in epoca di spending review è necessario darne? L'ultimo in ordine di tempo ieri sera in TV. In collegamento ci sono i due neopresidenti di Camera e Senato e l'inizio del loro intervento è quello che farà il titolo dei giornali. Abbiamo quindi voluto iniziare noi, cioè facendo un gesto significativo, a cominciare dalla nostra retribuzione. Quindi abbiamo deciso congiuntamente di tagliarci il 30%, almeno il 30% del nostro stipendio, di rinunciare. I grillini hanno fatto scuola e il portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, Vito Crimi, lo rivendica su Facebook stamattina. La nostra linea ha contagiato tutti, viva la trasparenza. Gli stipendi dunque. I neoparlamentari del Movimento hanno già dichiarato che faranno a meno della indennità. In busta paga dovrebbero avere circa 2.500 euro netti al mese. Succede già in Sicilia, dove il capogruppo Cancelleri ha deciso di destinare i soldi a cui rinunciano ad un fondo per il microcredito. E' il modello Sicilia, appunto, dove il presidente Rosario Crocetta governa con l'appoggio esterno dei grillini. E ieri, l'ultima vittoria in epoca di crisi, l'Assemblea regionale ha approvato, unica in Italia, l'abolizione delle province. Risparmio stimato circa 10 milioni di euro all'anno subito. Mi è sembrato doveroso come atto di sensibilità individuale rinunciare al compenso come presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia. Iniziava così il governo tecnico di Mario Monti. Intasca lo stipendio da senatore. Monti dichiara in conferenza stampa rinuncio al compenso da primo ministro. Era la stessa conferenza delle lacrime del ministro Fornero, che chiedeva sacrifici. E' l'inizio dell'austerity. A proposito di sacrifici, li stanno facendo le imprese toscane piegate dall'alluvione dello scorso novembre e i cassi integrati della regione. Risultato, il governatore, cinque giorni fa, annuncia. Mi congelo lo stipendio per protesta. Soffia il vento del rigore e anche vedere quei politici allo stadio e sapere che non hanno pagato il biglietto infastidisce non poco. Ecco allora il primo provvedimento del neopresidente del CONI Giovanni Malagò, che ha deciso di eliminare le tessere gratis per i politici allo stadio. E in questa epoca dare 100 mila euro al giorno all'ex moglie è davvero immorale. Per questo probabilmente Silvio Berlusconi ha deciso di andare in appello contro la sentenza di primo grado di divorzio da Veronica Lario. Insomma, la nostra linea ha contagiato tutti, dicono i grillini, che rivendicano questa corsa al risparmio, questa corsa ai tagli in politica. E questo ci porta a parlare del loro leader. Beppe Grillo, che domani al Quirinale incontrerà il capo dello Stato. Come sapete, sono in corso le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Ora, questo incontro diventa una sorta di evento. Sappiamo cosa ha detto Grillo nei confronti del Presidente della Repubblica. Parole spesso pesanti. In alcuni casi il Quirinale ha anche risposto. Insomma, gli attacchi da parte del leader del Movimento 5 Stelle nei confronti del Quirinale non sono mancati. soltanto una volta Grillo ha elogiato il Presidente ed è stato quando Napolitano è andato in visita in Germania. Presto, l'orto, portatemi un orto biologico. Ma quale orto? Ma quale orto? Siamo senza orto? Senza biologico? Ok, perfetto. Possiamo accogliere Grillo. Via, fate entrare Grillo! Ma no! Che ha detto no? Corraziele 1. Le consultazioni inizieranno non prima di un mese, signor Presidente. Quando? Un mese. Ma vaffangu! Ma che accendete tutto! Si ripristini! Adesso ci siamo. Domani alle 9.30 alla porta del Quirinale insieme ai capigruppo Crimi e Lombardi busserà proprio lui, Beppe Grillo. L'incontro dei due mondi scrive questa mattina su Repubblica Filippo Ceccarelli che ricorda anche il desiderio recentemente espresso dal filosofo Massimo Cacciari. Pur di assistere di persona al faccia a faccia Cacciari sarebbe pronto a dare un anno di vita. Napolitano e Grillo che si parlano con il dovuto rispetto un po' come sentire cosa si sono detti quella volta in carcere Giovanni Paolo II e Alia Cia. In questo caso nessuno ha attentato alla vita dell'altro però è vero che ormai da qualche anno i due se ne stanno dicendo di tutti i colori. Parole pesanti partite soprattutto da Grillo che durante i suoi comizi ha spesso ironizzato sull'età di Napolitano. Il salto di qualità arriva dopo le amministrative di un anno fa. I 5 Stelle conquistano Parma un successo poco significativo per Napolitano. Di boom ricordo quello degli anni 60 in Italia altri boom non ne vedo. Diventerà un tormentone gridiamo boom tutti insieme così il capo dello Stato si accorge che ci siamo esulta Grillo dopo il clamoroso successo in Sicilia ma già prima alle celebrazioni del 25 aprile di un anno fa Napolitano aveva parlato di demagogia dell'antipolitica. E senza finire per dar fiato a qualche demagogo di turno. Come si permette Napolitano reagisce stizzito Grillo che lo mette nel calderone dei politici insieme a Monti Fini Schifani che definisce tutti i morti. Dov'è Pertini? Dov'è Pertini che aveva un appartamento di 60 metri quadri fuori dal Quirinale? Dove sono questi che hanno dato la vita? A fine anno Grillo fa anche il suo contro discorso parodia ma nemmeno tanto di quello del capo dello Stato. Sono i giorni in cui sta emergendo lo scandalo del Monte Paschi Napolitano raccomanda agli organi di informazione di rispettare la segretezza delle indagini. Per Grillo vuole silenziare la stampa e proteggere il PD. Adesso anche il nostro Presidente della Repubblica il vostro Presidente della Repubblica il loro Presidente della Repubblica il loro Presidente dice che ci vuole la privacy vuole mettere sotto silenzio questo scandalo ma è incredibile. Un segnale diverso arriva dopo le elezioni il segretario dei socialdemocratici tedeschi Stenbrook prende in giro Grillo e Berlusconi i due clown poco prima di incontrare Napolitano che messo al corrente decide di annullare tutto. Chapeau scrive Grillo sul suo blog finalmente orgoglioso del mio Presidente che ha tenuto la schiena dritta parole che sembrano il preludio alla distensione dopo la guerra fredda è solo un'illusione. A scatenare il nuovo conflitto la visita di Alfano ricevuto da Napolitano al Quirinale dopo la manifestazione anti-Boccassini del PDL davanti al Tribunale di Milano. Povero Paese dove un Presidente invece di andare in prima serata a condannare un atto eversivo di portata enorme riceve Alfano al Quirinale il giudizio sprezzante del leader dei Cinque Stelle. Ora sale lui al Quirinale vedremo se imiterà Jessica Rostellato la grillina che per dimostrarsi coerente con la linea del capo non ha stretto la mano nemmeno a Rosibindi. Allora vedremo chissà se domani Grillo quando salirà al Quirinale riuscirà a fermarsi poi a parlare con i giornalisti dopo l'incontro con Napolitano. Diciamo subito che il rapporto tra il Movimento Cinque Stelle e i giornalisti non è stato dei migliori non è stato facile adesso ad appena per esempio un giorno dalla loro nomina i comunicatori del Movimento hanno annunciato l'intenzione di chiudere tutti i contatti con la carta stampata con la televisione con la radio basta con la macchina del fango hanno annunciato i due comunicatori tra l'altro come lo hanno annunciato scrivendo e postando sul loro blog e su Facebook vediamo Poco dopo essere stato nominato coordinatore della comunicazione Claudio Messora l'aveva detto vado a gestire una situazione complicata ma forse così complicata non se l'aspettava nemmeno lui perché ora nel Movimento Cinque Stelle è successo anche questo che i due neoresponsabili per la comunicazione Messora appunto per il Senato e Daniele Martinelli per la Camera abbiano deciso di interrompere ogni contatto con la stampa ma le responsabilità almeno per loro sono chiare visto che lo stesso Messora spiega se il Movimento Cinque Stelle non parla con nessuno è solo colpa loro dove loro sono naturalmente i giornalisti colpevoli di aver azionato quella macchina che da quando ne parlò Saviane quella volta è diventata una di quelle se non la più attiva di sicuro la più citata di tutte quella del fango la loro nomina sembrava dovesse dare stabilità aiutare a fare o rifare quadrato dopo le turbolenze di questi giorni a contribuire ad evitare nuove prevedibili turbolenze ma l'operazione sembra rivelarsi al momento piuttosto complicata anche perché appena nominati i due comunicatori si erano lanciati a dare interviste a radio e televisioni su argomenti a piacere di Cipro e il referendum sull'euro parlava Martinelli di possibile fiducia o comunque di una non chiusura pregiudiziale ad un possibile governo extra partitico quello cosiddetto tecnico messora proprio le stesse cose che erano costate un paio di settimane fa al capogruppo Vito Crimi una smentita immediata arrivata direttamente da Beppe Grillo i giornalisti che fin dall'inizio hanno sempre guardato con molta pressione diciamo così al movimento 5 stelle e al suo portavoce al suo capo al suo garante quello che vi pare al momento si ritrovano dunque estromessi come di fatto si erano sentiti estromessi quelli che ieri alla conferenza stampa alla camera della capogruppo Roberta Rosati si erano visti impedire di rivolgere domande e ora bisognerà aspettare Messora che parla di diffamazione creativa propone ora una soluzione da maestro sicca scetica con tanto di regole che senz'altro avrà i suoi vantaggi per la pace dell'anima ma che difficilmente a occhio e croce servirà a far conoscere le cose del movimento 5 stelle cose di cui in questo momento così complicato forse servirebbe sapere a tutti e mentre i politici tentano faticosamente di formare un nuovo governo nelle nostre città chiudono ogni giorno centinaia di negozi nessuna regione si salva dalla catastrofe delle commerci i numeri sono drammatici denunciano le associazioni di categoria che sperano a questo punto che il nuovo governo si faccia carico e prenda tutte le misure necessarie per contrastare questo fenomeno tra l'altro la chiusura dei negozi nelle nostre città cambia anche il volto appunto alle nostre città e ai centri storici tra gennaio e febbraio in Italia sono spariti 167 negozi al giorno in due mesi quasi 10.000 hanno chiuso i battenti in tutta Italia un'ecatombe mai vista secondo il monitoraggio fatto da Confesercenti gli effetti della crisi sono stati letali per la piccola distribuzione e non c'è rinnovamento se si conta che le aperture di nuovi negozi sono crollate del 50% rispetto all'inizio del 2012 se non ci sarà un'inversione di rotta per la fine dell'anno si prevedono la scomparsa di 60.000 attività e la perdita di 200.000 posti di lavoro e non va meglio per bar e ristoranti a fine trimestre in Italia saranno 9.500 i pubblici esercizi che abbasseranno definitivamente le saracinesche così le nostre città stanno cambiando faccia chiusi negozi e bar molte strade si spengono muoiono anche in pieno centro è un fenomeno che colpisce soprattutto il centro nord dove in due mesi ci sono state poco meno di 8.000 chiusure a fronte di 2.000 aperture via meraviglia milano centralissima sfocia in via dante e corso magenta a 500 metri da piazza del duomo alle spalle della borsa di milano dove tanto si gioca la storia economica italiana e dove ha sede la redazione del giornale i cui cronisti si sono accorti del cambiamento le sue vetrine storicamente sono sempre state eterogenee senza la caratterizzazione tipica delle vie della moda un susseguirsi di bar negozi di vestiti esercizi vari dal calzolaio all'agenzia di viaggi passando anche dall'ottico percorrendola oggi però prevalgono le insegne spente e le saracinesche abbassate chi resiste lo farà per poco come la salumeria che ha aperto tre anni fa vendendo piatti pronti e panini per la pausa pranzo degli uffici ma ora non ce la fa più meno clienti che spendono di meno uffici che vanno via si trasferiscono che cosa pesa sui conti di fine mese si guadagna meno e l'affitto aumenta sempre quindi è uno dei motivi per cui molte attività chiudono e voi che prospettive avete? non lo so io andrei via dall'Italia questa è la mia prospettiva infatti se riesco a vendere vado via non va meglio per i negozi storici come il caramellaio qui da ben 50 anni è finito i tempi che potevi mettervi un centesimo io mi auguro me lo auguro di non essere qua entro la fine dell'anno chiude il gioielliere con la vetrina proprio di fronte alla sede della camera di commercio di negozi nella Viene ha visti chiudere tanti se lei fa la passeggiata su via Meravigli si aspetta che via Meravigli può avere dei negozi bellissimi siamo rimasti in quattro vengono a vendere un gioiello di famiglia che come valore affettivo era molto elevato quindi lo curavano e abbiamo fortunatamente chi è collezionista e viene a comprare quell'oggetto di famiglia che un'altra persona ha dovuto vendere per forza per necessità lui resiste anche grazie a una clientela di nicchia oggetti d'epoca numismatica da cui molti si separano in tempi difficili abbiamo visto dunque locali che chiudono e invece ci sono dei locali che dicono no alle slot machine al gioco d'azzardo spesso un'importante fonte di guadagno proprio in questo momento di crisi in alcune città hanno fatto proprio una vera battaglia morale come ci raccontano alcuni commercianti da Milano è partita una campagna attraverso il web il sito senza slot raccoglie e pubblica gratuitamente segnalazioni su bar e locali che hanno detto no al gioco rovina famiglie a Pavia il sindaco ha indetto la carta etica almeno 30 alle attività che hanno aderito rinunciando ai guadagni legati al gioco d'azzardo anche a Como è cominciata la battaglia morale siamo andati a capire se davvero in tempo di crisi si può rinunciare a centinaia di euro per salvaguardarsi dalla dipendenza del gioco a Como i titolari di alcuni bar hanno risposto così preferisco che domani il mio cliente riesca di nuovo a bere un altro caffè piuttosto che perderlo per la slot ha detto no alle slot perché vedere molta gente che si rovina si brucia tutti i soldi con le slot non è bello i guadagni sono però lavori più tranquillo così perché alla fine comunque questi vengono si arrabbiano perdono i soldi ti cercano i soldi e poi insomma alla fine dispiace se hai una coscienza diciamo che vabbè rinuncia anche quella entrata lì via la città del lago è la seconda in Lombardia per il gioco nei locali pubblici e presto Como potrebbe seguire l'esempio di Pavia il comune sta studiando il bollino family una sorta di riconoscimento per evitare la degenerazione di storie come queste questa signora qui che praticamente in due ore di venerdì e due ore di sabato aveva giocato un milione e 350 mila e stava su di notte a fare il fulare vieni qua mangia aveva 30 euro invece di pagarmi me è andata a giocare alle macchinette ha perso tutte le 30 euro le macchinette a me non mi ha dovuto pagare adesso vedo anche molte donne giocare alle slot hanno più tempo magari da dedicare al gioco non so vedo molto anche ragazzini che magari piuttosto che andare a scuola vanno a giocare alle slot macchine magari i genitori sono inconsapevoli di cosa stanno facendo i propri figli per molti baristi le macchinette maledette si sono rivelate un vero boomerang per l'attività a rischio non c'è solo la tranquillità dei clienti abituali ma anche quella dei gestori e in alcuni casi dei loro familiari raccedere dal contratto senza penali si può solitamente l'esercente si accorda con l'azienda sulle modalità al momento della firma in quasi tutti i casi i contratti sono annuali l'importante è non creare problemi alla clientela affezionata con giri equivoce all'interno della propria attività è la battaglia dei senza slot esercenti di bar o pub che per una questione di etica non vogliono rovinare le famiglie il business dell'azzardo videopoker e slot machine sta raggiungendo numeri allarmanti in Italia i dati forniti dalla camera di commercio certificano l'apertura di nuove sale quasi il 25% in più rispetto allo scorso anno una media italiana del 9,6% rispetto al 2011 solo a Milano la questura parla di 63 agenzie aperte in città 113 sale slot di cui 42 dedicate solo ai giochi elettronici tradotto c'è un videopoker ogni 82 persone e c'è un processo che merita un'attenzione particolare quello sull'omicidio di Elisa Claps una morte avvolta per anni nel mistero questa mattina a Salerno nell'aula della corte d'assise d'appello c'era l'unico imputato Danilo Restivo condannato in primo grado a 30 anni per la prima volta dopo 20 anni lo hanno guardato in faccia quell'uomo che secondo l'accusa il 12 settembre 1993 ha ucciso la loro Elisa con 13 coltellate per la prima volta Danilo Restivo unico imputato già condannato a 30 anni in primo grado per questo omicidio ha deciso di essere presente al processo d'appello Restivo è stato estradato dalla Gran Bretagna dove è detenuto per un altro omicidio quello della sua vicina di casa Eder Barnett per il quale dovrà scontare 40 anni di carcere intorno alle 10 è entrato in aula apparentemente tranquillo apparentemente impassibile l'udienza si è svolta a porte chiuse ma ad alcune indiscrezioni è trapelato che la madre di Elisa ha voluto sedersi proprio davanti a Danilo Restivo e ha esposto una foto della figlia il suo assassino ha sbirciato con la coda dell'occhio ha detto la madre Filomena in una pausa del processo sappiamo che è già stata fatta giustizia siamo certi che il processo regge perché ci sono delle prove veramente schiaccianti una è il taglio dei capelli cioè proprio la prima firma l'altro poi sì confermativo di quello che è tutto il corredo probatorio ed è il DNA il corpo di Elisa Claps che all'epoca della scomparsa nel 93 aveva 16 anni venne ritrovato nel marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza dunque 17 anni dopo finora non ci sono state dichiarazioni spontanee dell'imputato a parlare nelle prossime settimane saranno i periti e le donne delle pulizie che ritrovarono il corpo di Elisa vuole rispondere a tutte le domande hanno assicurato i legali di restivo è fiducioso tranquillo desideroso di chiarire le circostanze rimaste ancora nell'ombra il suo coraggio ha commosso il mondo intero parliamo di Malala la vedete la quindicenne è pakistana che ha rischiato di morire per le ferite riportate in un attentato dei talebani che volevano ucciderla perché la ragazzina aveva sostenuto i diritti delle bambine all'istruzione oggi è andata a scuola in Inghilterra a Birmingham è il giorno più importante della mia vita ritorno a scuola e adesso posso anche camminare posso anche correre i talebani hanno cercato di fermarla ma non ci sono riusciti eccola Malala Yousafzai zainetto in spalla accompagnata dal padre mentre va a scuola a Birmingham un primo giorno di scuola che per lei è un ritorno alla vita piccola grande donna pakistana che a 13 anni ha sfidato i talebani chiedendo il diritto all'istruzione per le bambine come lei un diritto negato da quando la valle di Suat nel nord ovest del paese è sotto controllo talebano e del pugno di ferro degli studenti coranici contro le donne parlava sempre Malala nel suo blog in lingua urdu diario online ripreso dalla BBC Gul Makai questo il suo pseudonimo non è servito a proteggerla il 9 ottobre del 2012 un uomo è salito sul pulmino della scuola e le ha sparato in testa ma non è riuscito ad ucciderla trasferita in Gran Bretagna Malala ha subito due delicatissimi interventi chirurgici ha una placca di titanio nel cranio ed ha perso l'udito ma il suo primo giorno di scuola in Inghilterra ha detto ho realizzato il mio sogno tornare a scuola spero che tutte le ragazze abbiano questa opportunità il suo coraggio ha commosso il mondo una petizione internazionale ha raccolto milioni di firme per la sua candidatura al Nobel per la pace oggi eravamo solo 11 bambine su 27 le altre non sono venute a scuola dopo l'editto contro l'istruzione femminile scriveva Malala quattro anni fa ora indosso questa divisa ha detto ieri e sono orgogliosa di essere una studentessa lo avete sentito nel nostro telegiornale questa mattina in ospedale a Roma è morto il capo della polizia Antonio Manganelli era malato da tempo aveva 62 anni in queste ore stanno arrivando moltissimi messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico e non solo cominciamo dal ministro dell'interno cancellieri era un numero uno come poliziotto per le sue qualità morali dice appunto il capo il ministro dell'interno addio carissimo scrive il ministro nel suo messaggio di cordoglio che la terra ti sia lieve e poi c'è il messaggio dell'allora ministro dell'interno Maroni è un amico gli mando un abbraccio ricorda ricorda quando lavoravano insieme vorrei dedicare questa vittoria la vittoria delle regionali ad Antonio Manganelli dice appunto Maroni ciao Antonio maestro di vita amico vero rimarrai per sempre nel mio cuore e poi c'è un ricordo di Manganelli che amava ribadire ai cronisti come il suo essere poliziotto fosse molto più di un mestiere quasi una missione onorata fino in fondo anche nei giorni della malattia che l'aveva costretta ad un periodo di cure negli Stati Uniti senza però riuscire mai davvero a strapparlo al suo lavoro e adesso ci fermiamo per la pubblicità non ci sono altri aggiornamenti il nostro telegiornale si chiude qua vi ricordo come sempre il nostro sito e Twitter l'edizione delle 20 noi torniamo domani alle 14 buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti